I play-off sono alla portata dell'Aquila e la rincorsa al quinto posto passa per il match fondamentale di domani con l'Alba Longa. Proprio la compagine laziale occupa la quinta posizione con due punti in più rispetto all'undici di Battistini. Peccato che i rosso-blu arrivino decimati e siano costretti a giocare questa gara a porte chiuse al Gran Sasso d'Italia Italo-Acconcia. Pesa il provvedimento del giudice sportivo dopo la gara di Sansepolcro. Come detto l'Aquila è anche decimata. Ancora fuori causa Mallus e Peluso sono squalificati Arboleda, Noman e Farroni. Così Battistini proporrà salvetti tra i pali, una coppia leggera in attacco obbligata, Minin-Cleri-Valenti. Con la vittoria sarà sorpasso ma intanto sarà fondamentale non perdere per restare in scia al treno play-off. Match proibitivo per l'Avezzano che sarà in trasferta sul campo della capolista Rieti. Poche chance di risultato per la squadra di Pino Tortora che non ha più obiettivi di classifica e le cui attenzioni sono rivolte all'amichevole di lusso di giovedì prossimo con il Pescara e al derby del 2 aprile con l'Aquila. Per queste due partite che si giocheranno al Dei Marsi sono già in corso le prevendite che presentano buoni numeri. D'altro canto il Rieti è primo in classifica e impegnato in una lotta a tre per la vittoria con Arzachena e Monterosi. Difficile che a questo punto faccia passi falsi. Nel girone F è partita di fondamentale importanza per il Pineto che deve completare l'operazione salvezza e domani al Mariani Pavone sfiderà il San Marino di Pino Di Meo. La squadra di Amaolo è in un buon momento dopo aver sfiorato il colpaccio col San Nicolò. Il Monticelli è a portata di sorpasso ma gli Adriatici possono sempre cavalcare l'ipotesi del distacco in classifica dalla penultima che ora è di 12 punti, ben oltre gli otto del regolamento. San Nicolò a caccia del secondo posto, distante appena due punti. Vispesaro è in matelica da superare per la squadra di Epifani, domani trasferta sul campo di un Alfonsine in piena bagar play-out che la scorsa settimana ha dato segnali di ripresa. Per la Vassese in piena crisi al Carotti di Iesi c'è una delle ultime chiamate per inseguire il quinto posto. In terra marchigiana mancherà Galizia fermato per tre giornate dal giudice sportivo da valutare l'impiego di Prisco che non è al 100%. Grazie a tutti.